9 mesi per sperare, 90 minuti per realizzare un sogno come quella domenica di 12 anni fa nel 1985 anche allora si votava per il referendum, la Puglia ha due squadre in Serie A il Lecce qui l'ha conquistata Cesena davanti a 10.000 spettatori che ora fanno festa i tifosi sono un torrente in piena ma anche il presidente Mario Moroni lo è e svela un segreto era un vecchio sogno mio di Madarrese quello di andare insieme quest'anno in Serie A ce l'abbiamo fatta e questo aggiunge soddisfazione alla felicità che abbiamo Giampiero Ventura invece non vuole pensare al domani questo è un problema dalla società, in questo momento è festa, nient'altro la felicità ha il volto di Francesco Palmieri, giocatore simbolo del Lecce di quest'anno sono troppo contento perché veramente è stata un'annata bellissima anzi due anni stupendi questi a Lecce, si sono riusciti ad andare dalla Serie C alla Serie A cioè era immaginabile una cosa del genere però ci siamo riusciti abbiamo sofferto tanto però ci siamo riusciti Potevi mai immaginare che un barese sarebbe diventato l'idolo delle cese? Questo, il fatto che sono barese non c'entra niente perché io gioco con il Lecce e gioco con il cuore per questa maglia perché in questa città mi hanno valorizzato e mi hanno fatto conoscere a parecchia gente nel calcio perciò devo dire grazie sempre ed esclusivamente a Lecce Ed il patrono Giovanni Semeraro Il sogno è realizzato, si è realizzato, siamo felicissimi di questa impresa perché di impresa credo si debba parlare speriamo di compierne un'altra, qualche altra l'anno 21, negli anni successivi Ecco, si punta chiaramente a non fare l'ascensore, a non andare in alta lena Ecco, volevo ben dire questo, cioè la permanenza decorosa in Serie A ci consentirà di dire che abbiamo fatto un bel campionato l'anno 21 speriamo di farcela